In dirittura finale la variante generale al piano regolatore di Città di Castello che terminato il complesso iter amministrativo alla fine di marzo giungerà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva della parte strutturale. Lo annuncia l'assessore all'urbanistica Michele Bettarelli che nel ripercorrere le tappe che hanno scandito il 2015 ricorda i numerosi passi in avanti compiuti negli ultimi mesi dalla variante a partire dall'esame delle 430 osservazioni in circa 20 sedute della commissione consigliare assetto del territorio e a maggio l'esame del Consiglio Comunale prima del visto di Regione Umbria e provincia. Finalmente ci siamo, è trascorso sinceramente molto tempo ma è a dire il vero un iter molto molto complicato e le tante osservazioni che erano arrivate per cui comunque il piano è stato inviato durante il periodo estivo estate 2015 controdedotto alla provincia poi passandolo ovviamente alla Regione oltre alla legge regionale nuova, la legge regionale 1 che norma appunto in maniera completamente nuova il paesaggio del gennaio 2015 sinceramente ecco un po' hanno provocato un prolungarsi dei tempi però come dicevo finalmente ci siamo partiamo da una determina della Regione che è datata proprio fine dicembre quindi ecco il tempo tecnico per gli uffici per i nostri consulenti di sistemare il piano e poi avvieremo questo iter che ripeto si concluderà comunque entro la fine di marzo. Nell'economia della variante la parte strutturale che licensieremo ha detto ancora Bettarelli è fondamentale perché tiene insieme i grandi complessi urbanistici con le aree agricole con l'edilizia residenziale pubblica e con spazi di comunità. E' un piano importante è un piano che ha una prospettiva ventennale come è stato più volte detto più volte spiegato quindi anche una visione di lungo termine e con delle priorità e quindi si parla in maniera prioritaria di recupero di riqualificazione e anche con strumenti innovativi quindi attraverso la possibilità di avere incentivi premialità favorendo interventi appunto di recupero e di riqualificazione e ovviamente deve essere anche un piano che guarda come dicevo in prospettiva quindi non si può nascondere il fatto che sono previste delle nuove zone edificabili appunto definite zauni zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti quindi è una prospettiva e una possibilità non è un obbligo e quindi comunque pensando di qui ai prossimi vent'anni è evidente che una prospettiva di ampliamento va comunque prevista perché ci sono e ci potrebbero a maggior ragione nel futuro essere queste esigenze.